In questi giorni abbiamo presentato un progetto preliminare per la tramvia urbana di Reggio Emilia. Si tratta di uno studio di fattibilità che abbiamo inviato al Ministero per una richiesta di finanziamento. Siccome sono tante le domande che mi sono arrivate un po' su tutti i canali, via mail e sui social, oggi proverò a rispondere ad alcune di queste domande. In tanti mi avete chiesto come funzionerà il tram. Proviamo a vedere insieme un po' di numeri. Qual è la capienza di un tram? In questo caso si sono scelti vetture di circa 27 metri di lunghezza che possono tenere fino a 200 persone. Con quale frequenza passerà il tram dalle varie fermate? Abbiamo calcolato 7 minuti e mezzo perché si tratta di una linea di forza che andrà comunque a inserirsi in una rivisitazione complessiva della rete di trasporto pubblico locale, quindi un potenziamento di quello che è il servizio attuale di cui la tramvia sarà comunque uno degli attori principali. Quale sarà il periodo giornaliero di funzionamento? Anche in questo caso, come per le frequenze, ci sarà una rivisitazione del servizio e l'idea è quella che funzioni dalle 5.30 di mattina fino alle 24, quindi vuol dire anche un servizio serale. Quale sarà il tempo di percorrenza? In totale sono circa 30 minuti da rivalta alla stazione Meglio Palana, quindi sono circa 15 da rivalta al centro e altri 15 dal centro alla stazione Meglio Palana. Quanto costerà il biglietto? Il biglietto non costerà più di quello che costeranno i biglietti per il trasporto pubblico nel momento in cui la linea tramviaria sarà in funzione. Ad esempio, se la tramvia fosse attiva già adesso, il biglietto costerebbe 1,50€ come per qualsiasi altro autobus. Mi avete chiesto come si copriranno le spese di gestione del tram e chi lo gestirà. In realtà il tram, il suo funzionamento non sarà più costoso di quello delle linee attualmente in vigore, delle linee di autobus. Chi lo gestirà ovviamente non il comune, ma l'azienda che si occupa di trasporto pubblico. Un'altra domanda che mi è arrivata è Ma con tutti i problemi che abbiamo adesso perché vi state occupando del tram? Allora in realtà il tram viene da lontano, sono almeno 15 anni che a Reggio Miglia si parla del tram ed è una cosa che facciamo per il futuro, quindi sicuramente è un obiettivo strategico. Il tram era comunque una proposta che è stata sviluppata durante la campagna elettorale e si è sempre parlato di una linea che congiungesse di fatto il sud della città con il nord, quindi Rivalta Mancasale. Siccome Reggio è già una città molto congestionata nelle ore di punta, il tram sarà in coda nel traffico? Assolutamente no, perché in realtà secondo il nostro progetto il 73% del percorso è in sede separata. Questo permetterà al tram di andare molto più veloce, nel senso che avrà il suo percorso che non è promiscuo con le auto. Un'altra domanda è se ci saranno passaggi a livello. Anche questo assolutamente no, perché in realtà il tram è a tutti gli effetti un sistema di trasporto pubblico locale, non è una ferrovia, quindi il suo funzionamento è esattamente come un autobus agli incroci con i semafori. Mi avete mandato veramente tantissime domande, continuate a mandarne se avete altre curiosità, altri dubbi. Nel frattempo incrociamo le dita e speriamo che il finanziamento vada bene. Grazie!